Io sono Omar Fantini, nasco a Bergamo il 28 gennaio del 1900, di fatto qua sarò a intrattenere, quindi mi piace l'idea di catalogarmi come intrattenitore. Allora, l'ingrediente che non può mancare per il futuro, e di questo ne sono più che certo, ed è una cosa che in realtà è messa a serio repentaglio, è l'ironia, è l'ironia. Ovviamente io ci campo e quindi ho un interesse particolare, però ultimamente stiamo incappando sempre di più in un circolo vizioso legato al politically correct che impedisce sempre di più l'esternazione di quella che è. Ogni forma di ironia, l'ironia si manifesta come tutte le cose in molteplici forme, cercare di censurarne la maggior parte rischia veramente di togliere colori a questa tavolozza meravigliosa che ci può permettere di ridere, che è ovviamente importante. Grazie a tutti.